Ciao e benvenuto! I'm Valentina Stella, native Italian teacher, and today you're going to listen to ten common Italian conversations at the hotel so that you can get familiar with the classical phrases and dialogues that happen in real life when visiting Italy. So let's start! Iniziamo! Prenotare una camera. Buongiorno, vorrei prenotare una stanza doppia per questo fine settimana. Certamente, per quante notti avrebbe bisogno della stanza? Per due notti, da venerdì a domenica. Perfetto, abbiamo disponibilità. Preferisce due letti singoli o un letto matrimoniale? Un letto matrimoniale, per favore. Benissimo, il prezzo per notte è di 120 euro, compresa la colazione. Va bene? Sì, va bene. Proceda pure con la prenotazione. Ottimo! Ho prenotato una stanza doppia, con letto matrimoniale, per lei, da venerdì a domenica. If you like this kind of videos, please make sure to subscribe to my YouTube channel and also click on the bell next to the subscribe button and select all. That means that you're going to receive a notification anytime I post a new video, so you're not going to miss any of my new videos and any of these series. Chiedere informazioni sulla colazione. Buongiorno, cosa servite a colazione? Serviamo una varietà di cibi, compresi i cornetti, pane, marmellate, uova, succhi di frutta, caffè e tè. A che ora si può fare la colazione? La colazione viene servita dalle 7 alle 10 ogni giorno. Se preferisce, possiamo anche servirle la colazione in camera. Avete opzioni per chi segue una dieta particolare, come celiaci o vegetariani? Sì, abbiamo opzioni senza glutine e vegetariane. Se avete esigenze particolari, vi preghiamo di farcelo sapere in anticipo. Bene, grazie per le informazioni. Prego, se avete altre domande, non esitate a chiedere. Chiedere informazioni turistiche. Buongiorno, mi potrebbe consigliare un ristorante nelle vicinanze? Certamente, c'è la trattoria del ponte, a 5 minuti a piedi da qui. Hanno ottimi piatti tipici regionali. Fantastico, è aperta anche a pranzo? Sì, è aperta sia a pranzo che a cena. Bene, proverò la trattoria del ponte. Grazie mille per il suggerimento. È un piacere. Se ha bisogno di ulteriori informazioni, non esiti a chiedere. Problemi con la stanza. Mi scusi, la mia stanza è un po' fredda. Potrebbe mandare qualcuno a controllare il riscaldamento? Certo, mi scuso per l'inconveniente. Invierò immediatamente il nostro tecnico. Grazie. È nostro dovere. Ci scusiamo per il disagio. Richiesta di servizi speciali. Salve, avrei bisogno di una babysitter per stasera. Voi potete trovarmene una? Assolutamente, possiamo organizzare un servizio di babysitter. A che ora ne avrebbe bisogno? Dalle 19 a mezzanotte, se possibile. Perfetto. Confermo la prenotazione per la babysitter per stasera dalle 7 a mezzanotte. Se avesse bisogno di cambiare l'orario, ci informi pure. Grazie mille, mi è stato davvero di aiuto. Check out. Certamente, può lasciare la stanza alle 14. Perfetto, grazie mille. Non c'è di che. Se ha bisogno di altro, ci faccia sapere. Chiamare un taxi. Buonasera, potrebbe chiamare un taxi per me, per favore? Certo, dove deve andare? Devo andare all'aeroporto. Va bene, il taxi sarà qui tra circa 15 minuti. La ringrazio. Problemi di prenotazione. Buongiorno, c'è un problema con la mia camera. Ho prenotato una doppia ma mi avete dato una camera singola. Mi faccio controllare. Sì, ha ragione. Ci scusi per l'inconveniente. Le assegno immediatamente una doppia. La ringrazio. È il minimo che possiamo fare. La nuova camera è la 101. Queste sono le chiavi. Chiedere la sveglia telefonica. Buonasera, potete svegliarmi via telefono domani mattina alle 7? Certamente, ho impostato la sveglia telefonica per le 7 di domani. Se dovesse cambiare idea, ci faccia sapere. Perfetto, grazie mille. Prego, le auguro una buona notte. Chiedere il servizio in camera. Vorrei ordinare la cena in camera. Potete portarmi il menu? Certo, invierò immediatamente qualcuno con il menu. Grazie, c'è un piatto che mi consigliate in particolare? Il nostro risotto alla pescatora è molto apprezzato. O se preferisce la carne, il filetto al pepe verde è delizioso. Opterò per il risotto. Grazie per il suggerimento. A presto. Ciao da Valentina. A presto. 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 A presto.